È arrivato come un fulmine a ciel sereno l'arresto del dottor Carlo Mosca, primario del pronto soccorso dell'ospedale di Montichiari. Il medico di origine cremonese, che è stato posto ai domiciliari dei carabinieri del NAS, è sospettato di omicidio per avere intenzionalmente somministrato a pazienti affetti da Covid-19 farmaci ed effetto anestetico e bloccante neuromuscolare, causando la morte di due di loro, di 61 e 80 anni, durante la cosiddetta prima ondata pandemica. I fatti risalgono allo scorso mese di marzo, momento in cui la pandemia esplodeva e l'elevato numero di contagi andava a ripercuotersi sulle strutture ospedaliere, intasandole. Tre salme sono state esumate per indagini autoptiche e tossicologiche. All'interno di tessuti ed organi di una di esse c'era un farmaco anestetico e mio rilassante, comunemente usato nelle procedure di intubazione e sedazione del malato, che se utilizzato al di fuori di specifici procedure e dosaggi, può determinare la morte del paziente. Peraltro nelle cartelle cliniche dei deceduti oggetto di verifica non compare la somministrazione di quei medicinali, indicata invece nelle cartelle di pazienti poi effettivamente intubati, tanto da ipotizzare a carico dell'indagato anche il reato di falso in alto pubblico. Al vaglio degli investigatori, anche dei messaggi WhatsApp tra infermieri del nosocomio bresciano, «Io non ci sto ad uccidere pazienti solo perché vuole liberare dei letti», scriveva un dipendente ad un collega. «Io non ci sto, questo è pazzo», la sua risposta, parlando della decisione del medico di far preparare i due farmaci che solitamente si utilizzano prima di intubare un paziente. Questa vicenda terribile, su cui la procura dovrà fare luce, pone alcune necessarie riflessioni. Un medico stimato e considerato fino a qualche giorno fa un eroe per il suo impegno durante quelle settimane terribili può realmente avere compiuto delle azioni così drastiche oppure ha semplicemente seguito le direttive che imponevano di curare i pazienti che avrebbero avuto maggiori possibilità di sopravvivere? Quanto poi la confusione in tutte le strutture ospedaliere della Lombardia, la pressione psicologica, la stanchezza fisica per i turni interminabili di lavoro e la disperazione per la mancanza di strumentazione personale possono avere contribuito a tali decisioni? Non da ultimo si pone l'interrogativo per cui siano state resumate delle salme quando in emergenza Covid i deceduti venivano per prassi cremati. Durante uno speciale dedicato proprio a come l'ospedale di Montichiari aveva affrontato l'emergenza Covid avevamo avuto l'occasione di intervistare il dottor Mosca che ci aveva parlato con il cuore in mano di come stava vivendo quei giorni, lontano dalla sua famiglia per paura di contagiare i propri cari. La decisione poi è di trasferirsi in un bed and breakfast per essere più vicino al luogo di lavoro e i turni estenuanti sempre in bilico tra la vita e la morte. Come responsabile del protossoccorso ho dovuto sdoppiarmi e far parte dell'unità di crisi insieme al direttore sanitario di presidio per identificare quelli che erano dei percorsi ben chiari legati alla nuova emergenza coronavirus ed inoltre riassettare e riorganizzare il pronto soccorso. Posso inizialmente dire che utilizzare delle logiche ordinarie in un momento come quello del coronavirus, cioè eccezionale, sarebbe stato completamente sbagliato. Quindi mi sono basato su questa semplice riflessione cercando di utilizzare massima flessibilità da parte del mio personale, tutti gli spazi del pronto soccorso per accogliere il maggior numero di pazienti, creare una piccola area di isolamento nella prima settimana per poter avere un biocontenimento di questi pazienti e poi cominciare a ricoverarli in base alla loro gravità e pian pianino sono stato travolto invece dall'incremento di questi pazienti. Anche il primo cittadino di Montichiari, Marco Toni, ha espresso vicinanza agli operatori sanitari sottolineando sulla sua pagina Facebook che una cosa è essere indagati, un'altra condannati, invitando ad abbassare i toni e sottolineando come l'ospedale di provincia si è stato chiamato a gestire 170 pazienti Covid dove mancavano anestesisti, rianimatori e infermieri specializzati e questo a causa delle decisioni regionali di smantellare la medicina territoriale.